Buongiorno e benvenuti a questa Rassegna Stampa, oggi 18 maggio 2019. Vediamo subito quali sono i temi della giornata sulla questione della politica e della lite tra Salvini e Di Maio da registrare la semplice, ovviamente immediato passaggio, cioè si passa dalla lite politica e gli insulti. Salvini è un pugile suonato, dice Di Maio, e dice ancora, è come arrogante come Renzi quando non voleva mollare la Boschi. Insomma non so se c'è un insulto più terrificante per Salvini che risponde nessuno mi dà gli ordini, nemmeno Conte, riguardo agli sbarchi, gli imbarchi, insomma alle questioni che riguardano il Ministero degli Interni. Marco Imarisio oggi giustamente ci ricorda sul Corriere della Sera che cosa sarebbe venuto soltanto poche settimane fa quando Salvini era stato indagato dalla procura di Agrigento, mi sembra, per, vi ricordate, per sequestro di persone lì ci fu una specie di campagna di tutto il governo a essere garantisti. In realtà oggi il clima è molto diverso, Di Battista è oggi intervistato dalla Corriere della Sera, ogni tanto viene intervistato, dice mi auguro che questo governo duri quattro anni, ma anche qui lo vedrei un po' un insulto a Salvini, però insomma si mette a lavorare Salvini. È una specie di, come diciamo, attacco concentrico. Cosa sulla questione dei giudici oggi e sul fatto che questi giudici stanno avendo un atteggiamento, diciamo, un po' di attenzione nei confronti di Salvini, possiamo dire questo o veniamo considerati dei salviniani? L'avrei detto anche nei confronti di Berlusconi al suo tempo, ovviamente, ma all'epoca sì che ero un berlusconiano. Devo dire la verità che mi fa specie, anzi non è che mi fa specie, c'è un pezzo rivelatore di dieci righe sul foglio, è la cosiddetta Andrea Sverson. Andrea Marcenaro è una persona molto intelligente, un ex uomo di lotta continua che per anni ha difeso Berlusconi dalle pagine di Mondadori e del foglio. Ho grande stima di Andrea Marcenaro perché, oltre a scrivere bene, è una persona onesta intellettualmente. Beh, oggi dice, certo che questi magistrati che attaccano Salvini è sbagliato pensare che quello sia un modo per eliminare una politica che non ci piace e poi quel retropensiero che tu hai, che sarebbe bello che Salmini smettesse, fosse espulso dal mondo politico per una questione giudiziaria. Insomma, è una roba che non sta né in cielo né in terra. L'ultima riga che scrive Andrea, ma cerca Andrea di non dire cazzate, ti piacerebbe davvero tantissimo che Salvini fosse fatto fuori per, come si chiama, per via giudiziarie. Ecco, secondo me questa ironica, ma non tanto, ma direi autoironica versione dei fatti ci racconta qual è lo status solito degli italiani, garantisti soltanto con i propri amici e giustizialisti, compreso il fatto, compreso, io mi ricorderò e me lo ricorderò per i prossimi anni, un pezzo di Giuliano Ferrara che ha avuto l'ardire sul foglio di scrivere questa parentesi gli Arata, i Siri, dimenticandosi che proprio Giuliano Ferrara era quello che difendeva l'indifendibile situazione in cui si trovava Forza Italia, non perché fosse indifendibile Forza Italia ma perché era indifendibile secondo la magistratura, io continuo a difendere il garantismo e quindi gran parte dei processi contro Forza Italia e volevo ricordare a Ferrara che quella Arata era un deputato proprio di quella Forza Italia che lui difendeva e soltanto perché è passato poi con Siri non gli piace più, quindi insomma io penso che chiunque voglia giustamente dal proprio punto di vista combattere il salvinismo, il leghismo o anche il Movimento 5 Stelle se si affida ai giudici si affida al diavolo, una volta che fai il patto col diavolo il patto te lo porti tutta la vita, è talmente facile da capire per cui non riesco a capire come il foglio possa fare e cadere ancora in questo equivoco ma la vera questione di giornata, scusatevi, è la maestra sospesa a Palermo cosa è successo sulla maestra sospesa a Palermo? Il manifesto titolo alla buona scuola insomma buona scuola tutto è tranne che buona scuola, quello che è successo a Palermo poi possiamo discutere sulla sospensione e ne discuteremo perché dei ragazzi in quella scuola hanno semplicemente fatto una ricerca in cui associavano il decreto sicurezza di Salvini che evidentemente conoscono benissimo con le leggi razziali del 1938 sulla razza ariana, non potevano insegnare, non potevano fare giornalisti, non potevano fare i professori universitari, gli venivano spogliati alcuni beni, non potevano fare i notai non potevano accedere in certi luoghi, non potevano assumere cameriere come si diceva all'epoca di razza ariana, cioè stiamo parlando di un abominio della storia la cosa più brutta e più orribile che ha fatto il fascismo con il decreto sicurezza fatta dal fascismo, va bene? allora questa è chiaramente una cazzata descrivere il decreto sicurezza come le leggi razziali vuol dire descrivere Salvini come Mussolini perché è la stessa identica costruzione è una cosa che può rappresentare la buona scuola no cari amici del manifesto si sospende e si manda due signori della Digos nella scuola per verificare la vicenda, anche questo secondo me sembra del tutto assurdo nel senso che la professoressa sarà pure una sessantuttina ma come dice giustamente oggi Zecchi sul giornale queste professoresse, io non lo so poi come sia andata nel dettaglio ma c'è un provveditore che l'ha sospesa più che insegnare manipolano mi interessa poco la storia diciamo della professoressa perché la professoressa potrebbe semplicemente essersi limitata a ricevere questo studio e averlo discusso in classe nel qual caso non ci vedo nessuno scandalo o poco scandalo se non nel fatto che la professoressa dovrebbe alzare i dita e dire guardate che le legge raziali sono una cosa seria ma insomma non arrivo a tanto l'unica cosa che trovo scandalosa è il piagnisteo di quegli intellettuali alla concita di Gregorio le insegnanti democratiche che non possono insegnare la storia no, forse dovrebbero insegnarla per spiegare qual è la differenza tra le legge raziali e il decreto sicurezza gramellini dobbiamo chiedere scusa a questa professoressa ma che cazzo chiediamo scusa? cioè io dico soltanto una cosa io dico semplicemente una cosa sono gli stessi intellettuali che invece non hanno avuto nessun pudore nel fatto che quella merda del salone del libro di Torino avesse escluso un'intervista a Salvini fatto da un editore vicino a Casa Pound come oggi scrive gestamente Ricolfi sul Mezzogeno si chiama di una roba allucinante e Ricolfi non è certo un uomo perché la cultura di sinistra non accetta altro se non se stessa i saloni non sono diventati altro se non un compiacere un piccolo circoletto di sfigati che pensano di essere i grandi prust del secolo che viene il punto fondamentale è così come noi possiamo accettare e dobbiamo accettare che ci sia un editore che non ci piace al salone di Torino non possiamo non accettare che degli studenti possano portare un loro elaborato anche assurdamente sbagliato come quello che è avvenuto a Palermo però possiamo alzare un ditino spiegando che la scuola forse come dice giustamente Zecchi più che manipolare deve insegnare quindi andiamoci piano su questa vicenda una cosa è la tolleranza una cosa è la censura come sta avvenendo oggi su tutti i campi quindi io difendo in una certa misura la professoressa ma non difendo la tolleranza assurda che si ha nel definire uno studio degli studenti che sostengono che le leggi razziali sono come il decreto sicurezza ci si deve alzare in piedi e dire scusate non è la stessa cosa se no viviamo in un mondo completamente capovolto quanto spendono i politici su Facebook è un bellissimo due pagine del giornale che trova attraverso Lombardo tutte le spese di Salvini Partito Democratico Berlusconi su Facebook 78 mila euro e quanto ha speso per la campagna elettorale fino ad ora come si chiama Salvini niente rispetto a un milione e mezzo di Trump ma insomma 60 milioni contro 300 milioni di americani in foglio invece ci racconta una storia dei giovani laureati brillanti in America che secondo Glassdoor che è un sito che dice che dà la reputazione dei posti di lavoro non è più diventato un posto di lavoro ambito anzi molti studenti di Berkeley di Harvard non vogliono più andare a lavorare a Facebook Ricolfi ve ne ho parlato pezzo stupendo sole 24 ore apre con una notizia che dovrebbe allarmarci più di tante altre cioè l'Italia nei prossimi due mesi dovrà raccogliere sul mercato 64 miliardi di euro in titoli di Stato allora i nostri che ci governano e che fanno tanto pere 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 all'economia dovrebbero sempre rendersi conto che questo Stato questi stipendi i navigator gli stipendi dei ministri gli stipendi delle maestri sospese eccetera derivano dal fatto che noi si riesca a raccogliere questi 64 miliardi in due mesi, insomma un po' più di rispetto di quella finanza, di quel mondo, di quell'Europa, di quei mercati che fanno tanto schifo a chi ci governa. Devo dire che poi oggi mi sono messo di buon umore perché la copertina del Time è dedicata a Greta Thunberg e il titolo è Il leader della nuova generazione. La morte di Time è nota, non si è anticipata, anzi pensavo non esistesse più quel settimanale un tempo che qualcuno leggeva. La copertina di Time è dedicata a Greta con questo bel vestito verde plissé in una foto, diciamo chissà quante flash hanno usato e CO2 hanno creato per formare quella foto e stamparla sull'orribile carta che avrà distrutto con chissà quante foreste da Il senso della morte di giornali prestigiosi e che un tempo dicevano qualcosa e che oggi si limitano soltanto a fare una foto banalotta alla leader dell'ambientalismo mondiale. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani, lunedì e martedì ci sono, lunedì anzi è mercoledì, lunedì e mercoledì, Quarta Repubblica e Matrix. Ciao!